Franco Bellingheri, l'alleanza Lega PDL a Clusone allora si farà? Penso proprio di sì perché stamattina ci siamo incontrati a Bergamo nella sede della Lega Nord con i responsabili del PDL provinciale della Lega e abbiamo insieme con quelli di Clusone definito l'accordo politico. E' un accordo, lo ribadisco, politico e non soltanto elettorale perché l'intesa è quella di proseguire poi per alcuni anni e secondo me sarà un grande beneficio per la città di Clusone e per l'Alta Val Seriana. Il segretario della Lega Nord di Clusone Paolo Lini aveva detto, l'ha ribadito anche ieri, noi non vogliamo in lista consiglieri comunali del PDL, attuali e vecchi amministratori, da questo punto di vista ci sarà un accordo? Ma io credo che quando si sono definiti, i due schieramenti definiscono una linea, una strada, si traccia una strada insieme, si possono trovare anche le soluzioni a tutti i vari problemi che possono nascere. Per cui anche su questo chiaramente da una parte o dall'altra ci sarà qualche problemino, ma penso che saranno senz'altro superabili. Il candidato sindaco spetta alla Lega? Non l'abbiamo detto a chi spetta, noi abbiamo il sindaco, anche noi del PDL, ma siamo disponibili a ragionare, vorremmo che fosse il sindaco che ha la maggior attenzione della città di Clusone. Quindi questo è soprattutto che ci interessa e che sappia anche coagulare l'alleanza e che possa appunto gestire per un po' di anni questo raggruppamento politico. Per quanto riguarda i programmi avete già delle priorità? No, noi stamattina abbiamo definito la linea politica e poi adesso abbiamo il compito di trovarci nei prossimi giorni insieme e di stendere un programma, naturalmente delle cose possibili, non di quelle impossibili. Anche su questo le divergenze non saranno forti perché, contrariamente a quello che si può pensare, non è che noi saremo la continuazione dell'attuale amministrazione, anche se abbiamo degli amici all'interno di questa amministrazione. Abbiamo la consapevolezza che ci vorrà anche un po' di stacco e quindi siamo disponibili anche ad affrontare alcune cose che la Lega vuole in ogni caso. Aperti ad altre alleanze? Lo rifaremo anche questo di discorso insieme con la Lega. L'alleanza è tra PDL e Lega Nord, poi se vorremmo insieme potremmo valutare se si vuole o meno altre aggiunte, però non saranno parte integrante dell'accordo politico tra i due nostri schieramenti.